scusate ma qui stiamo esagerando nikita pelizon pubblica gli screenshot dei messaggi scambiati con antonella fiordelisi per sbugiardarla l'amicizia tra nikita e antonella sembra giunta al termine che c'era tensione si era già capito da alcuni commenti e lì che sui social ma ieri la vincitrice della scorsa edizione del grande fratello vip non ci è stata più e ha deciso di raccontare la verità sulla sua amica sostenendo che la schermitrice sia falsità il tutto è nato da un intervento che antonella ha fatto su x a nikita che ha pubblicato un video in cui recitava un pezzo di romeo e giulietta a cui la prima ha risposto ma tutta posto amo un'uscita che non è affatto piaciuta a nikita che sempre su x ha messo vari l'ikea commenti contro antonella fra i tanti pensavo fossi un'amica vera e non è finita qui la fiordelisi ha replicato nuovamente con un video postato su x in cui afferma il tempo darà le risposte a tutto ma ieri la pelizzon non ce l'ha fatta più dopo le numerose critiche che le sono arrivate per il suo corso motivazionale e frecciatine anche da parte della sua amica o pseudo tale l'ex vincitrice del gfv ha deciso di rendere pubblici gli screen con il fine di chiarire il modus operandi della fiordelisi cosa è emerso che in pubblico le va contro e in chat fa l'amica scusate ma qui stiamo esagerando amo risolvere nel privato cosa che ho cercato di fare in forma pressoché univoca durante la settimana noto nonostante ciò che si continua pubblicamente questo gioco ahimè quindi per correttezza e trasparenza mi tocca replicare con le stesse armi ha scritto ieri sera su instagram la pelizzon quest'ultima ha pubblicato solamente i messaggi mandati da lei ad antonella ma si evince subito che durante questo periodo in cui non sono mai mancate le frecciatine le due hanno continuato a parlare su whatsapp come se nulla fosse tra gli ultimi un vocale mandato dalla pelizzon alla fiordelisi dopo che è stato svelato il cast ufficiale di pechino express nel vocale nikita dice di volerla vedere prima che parta per l'esperienza e poi le dà anche consigli sul programma avendovi lei già partecipato con elena prestes